Maltrovati, Boccaloni! Avevo un po' di nostalgia della saga di Saw e immagino che per voi sia lo stesso. Siccome manca ancora qualche mese all'uscita di Saw X, ho deciso di colmare questo vuoto portando un video speciale. E quindi ecco per voi la classifica delle mie 5 trappole preferite tra quelle partorite dalla geniale mente di John Kramer. Vi avverto, avendo già sconfitto la saga di Saw, non starò qui a spiegarvi come gli sfigati Boccaloni avrebbero potuto salversi, perché appunto l'ho già fatto. Quindi se non avete visto i video precedenti, oltre a beccarvi un potentissimo anatema, è vostro dovere andarli a recuperare. Scommento vi starete chiedendo chi abbia indovinato l'errore dello scorso video, vero? Beh, nessuno! Ma solo perché nello scorso video non c'erano errori. Tuttavia oggi ho disseminato ben 5 errori all'interno di questo video, così per compensare. Il primo che li identifica tutti e li scrive nei commenti verrà premiato con una piccola sfiziosità. E no, non è da mangiare se è quello a cui state pensando. Ora, nessuna allerta spoiler o quasi per questo video, ma voi sapete già cosa fare, no? Mettetevi scomodi e preparatevi per un nuovo episodio di Mangia Movie! E allora cominciamo! Al quinto posto, il labirinto di filo spinato. Il primo Saw non si scorda mai. Sono passati ben 19 anni dall'uscita di Solo Enigmista. Ah, come passa il tempo! Tuttavia l'epicità di alcune delle trappole di questo film rimarrà tale anche tra cent'anni. Una di queste è sicuramente il labirinto di filo spinato. Il povero pulla soltanto due ore per svignarsela da un intricatissimo dedalo di filo spinato. E non di quello simpatico, no! Ve ne ho già parlato, si tratta di quel bellissimo filo spinato con dei rasoi così taglienti che se solo ci passi accanto ti guardano storto e tirano fuori dalle tasche dei rasoi ancora più taglienti. Non mu dalle f... Pull, forse per paura o forse per semplice boccalonaggine, si getta senza raziocinio in mezzo alla gang di rasoi e filo spinato, finendo per essere tagliuzzato qui e là e rimanere appeso come un prosciutto stagionato. Straccio, straccio, straccio! Di certo questa trappola non esprime al meglio il sadico genio di Kramer, tuttavia ci offre un altro tipo di sadismo e crudeltà. È come un inferno per claustrofobici zeppo di lami, dove ogni movimento va calibrato con estrema cautela. Con un bel po' di tempo e ancora più pazienza sarebbe anche possibile fuggire, non senza qualche cicatrice ricordo. Il problema è che il timer scorre senza pause e una volta arrivato a zero, chiunque si trovi all'interno del labirinto rimarrà per sempre bloccato al suo interno. Spazi angusti, rasoi strappacarne, una disperata corsa contro il tempo. Mi piace. Voto 10. Ma ricordatevi, il mio voto può confermare o ribaltare la classe... Ma che cavolo sto dicendo? Andiamo avanti. Al quarto posto, la fossa delle siringhe. Ah, una bella piscina di siringhe usate. Era quello che avevo proposto come cuccia i gattini mannari, che sfortunatamente non hanno accettato. Neanche Amanda Young nel secondo film della saga era del tutto convinta di fare un tuffo in quel marasma di possibili malattie e infezioni. Difatti per convincerla serve l'intervento di Michael, lo spacciatore che a fine film si becca un colpo di seghetto alla gola, che afferra Amanda e la getta nella fossa. Una volta caduta all'interno, ogni minimo movimento equivale a dozzine di piccole punture e pizzichi conditi da chissà quale germe, malattia o residuo di sostanze. Il tutto per trovare una singola chiave, un po' come cercare un ago in un pagliaio fatto di agi putrescenti. Anche in questo caso non ci troviamo davanti a chissà quale complicato marchigegno o elaborata trappola. La fossa delle siringhe colpisce prevalentemente la parte del cervello che gestisce la paura, proiettando il malcapitato di turno in un buco nero di ansie manovrate dall'ignoto. Cosa c'era in quelle siringhe? Questa è la domanda che risuona in testa sempre più forte e sempre più insistentemente. Ogni singolo pizzico sulla pelle ingigantisce questa paura e le probabilità di ridurvi peggio del signor Burns durante il suo check-up completo. Lei ha praticamente qualunque cosa. Poi in realtà come abbiamo visto Amanda non ha troppe difficoltà a trovare la chiave e uscire da lì. Ma ciò non toglie che anche solo l'idea di dover affrontare questa trappola farebbe venire la pelle d'oca a qualsiasi boccalone. Giocare con le paure e con la psiche delle vittime è una tecnica sempre valida e utilizzata da molti, moltissimi killer. Ma il nostro enigmista è conosciuto principalmente per il proprio ingegno, no? E quindi al terzo posto della mia personalissima classifica abbiamo il crocifisso high-tech. Lo stesso Jigsaw sostiene che questa sia una delle sue trappole preferite. E come dargli torto, d'altronde? Direttamente dal terzo film della saga, vi giuro che non l'ho fatto apposta a metterli in ordine, ecco una delle trappole più brutali e sanguinose mai viste. Il rack, o la ruota nella versione italiana. Dobbiamo sempre peggiorare le cose. È progettata per torcere gli arti e la testa del boccalone di turno con talmente tanta potenza da sgretolare le ossa come gressini e trasformare la vittima in un uomo gufo con l'abilità di ruotare la testa di 180 gradi. Il prezzo da pagare per questa abilità è la propria vita, però. Per uscire vivi da questa prova l'unica speranza è affidarsi agli altri. Bisogna infatti recuperare una chiave posta all'interno di una teca e legata al grilletto di un fucile. E che una volta strappata da lì farà partire un colpo che rischia seriamente di spappolare la testa di chi si trova nelle vicinanze. Un'alternativa potrebbe essere quella di intervenire su eventuali generatori di corrente o su meccanismi che muovono le varie sezioni del torci ossa. Ma il tempo a disposizione è veramente ristretto. E anche se si dovesse riuscire a bloccare la trappola prima che questa vi sviti la testa, le ferite riportate a braccia e gambe sarebbero talmente gravi da ridurre notevolmente qualsiasi chance di sopravvivenza. Al pari delle due trappole precedenti anche questa bestia spezza ossa pone davanti a una sofferenza che va al di là di quella fisica e si basa sul perdono in questo caso e sulla rielaborazione di eventi profondamente traumatici. A cui va ovviamente aggiunta anche tutta la controparte fisica. Una gabbia metallica cucita addosso alla vittima. Una lenta e inesorabile torsione che strappa muscoli, tendini e carne prima di frantumare le ossa e farne un purè. Ah, la medaglia di bronzo non poteva chi andare a questa piccola meraviglia. Sono abbastanza sicuro che il secondo posto vi sconvolgerà. E ammetto che senza le dovute spiegazioni la scelta potrebbe sembrare anche un po' strana. Quindi ora ascoltatemi bene e capirete perché ho assegnato la medaglia d'argento al carosello russo della morte. Direttamente da Saw 5 è una prova che forse molti di voi hanno dimenticato ma che a mio avviso nasconde diverse chiavi di lettura interessanti. Ma prima uno spiegoncino per chi non ha visto il film non se lo ricorda benissimo. William il boccalone si trova davanti a una simpatica giostra a cui sono legati sei dei suoi più ristretti collaboratori. Questo carosello mortale si fermerà ciclicamente piazzando a rotazione i boccaloni intrappolati davanti a un fucile carico. William può salvare due di loro premendo due pulsanti che però si trovano all'interno di una piccola gabbia e che quando vengono premuti attivano delle lame che tagliuzzano e sfilacciano la mano di William. Per due boccaloni che si salvano ci sono però altri quattro boccaloni costretti a beccarsi un colpo di fucili a pochi centimetri di distanza. Lo so, lo so, starete pensando che ci sono trappole ben più crudeli e sicuramente più scenografiche di questa e avete ragione. Tuttavia questo carosello infernale offre diversi spunti. In primis la metafora della giostra della vita che gira e che da un momento all'altro può metterti davanti a un fucile carico e voglioso di spararti del piombo caldo addosso. Poi c'è la figura di William, un uomo che per buona parte della sua vita ha scelto guidato solamente dalla voglia di arricchirsi chi doveva vivere e chi invece doveva morire. Certo lo ha fatto seguendo delle regole aziendali e assicurative, almeno sino a ora. E in questa prova è invece costretto a scegliere secondo il suo istinto e ascoltando tutto quello che i suoi colleghi hanno da dire pur di salvarsi la vita. E anche i colleghi boccaloni sono fonte di interrogativi. Chi di loro mente? Chi di loro merita realmente di essere salvato? E chi invece sta solo agendo da predatore tentando di salvarsi? La somma di tutti questi aspetti conferisce a questa prova un sapore speciale, che a mio avviso la rende degna del secondo posto di questa mia personale classifica. Poi certo rimango dell'idea che per fermarla bastava bloccare la catena della bicicletta a cui era collegato il fucile, ma come sappiamo le cappellate in questo genere di film sono canoniche. Siete d'accordo con questa scelta? Fatemelo sapere con un bel commento e ditemi la vostra. Ora è arrivato il momento di assegnare la medaglia d'oro. E se la scelta di prima era inaspettata, questa al contrario è piuttosto scontata. Qualcuno potrà dire addirittura banale, ma se pensiamo alla saga di So ci viene in mente una sola cosa. La trappola per orsi rovesciata. E' indubbiamente la mia preferita. E arriviamo finalmente alla trappola per orsi rovesciata. Un nome così semplice ma così evocativo da non farti venire alcun dubbio sul male che potrebbe farti. Fa la sua prima apparizione nel primo film della saga per poi tornare nel quarto, nel sesto e nel settimo capitolo. A differenza delle normali trappole per orsi, questo gioiellino è progettato per aprirsi invece che per chiudersi. L'apertura a scatto fa sì che la tua faccia partendo dalla bocca si apra insieme alla trappola in una frazione di secondo prima di esplodere in milioni di miliardi di minuscoli pezzettini. E abbiamo dovuto aspettare ben sette film per vederla finalmente all'opera. Nel primo film Amanda riesce a liberarsi estraendo la chiave dallo stomaco del povero boccalone paralizzato. Mentre nel sesto il detective Hoffman sfoggia tutta la sua abilità e il suo sangue freddo liberandosi dalla trappola da solo. Certo una parte delle sue guance n'è uscita decisamente malconcia ma niente che qualche punto di sutura non possa sistemare. In so 3D è invece proprio Hoffman a regalarci finalmente la visione della trappola all'opera in tutto il suo splendore. La vittima è Jennifer, l'ex moglie dell'enigmista. La stessa che aveva provato a fregarlo con la stessa trappola. Pur essendo l'ex consorte del geniale Kramer la donna non ha scampo e la trappola per orsi può finalmente fare ciò per cui è stata progettata. Questa trappola ha veramente tutto, spettacolarità, livelli di ansia spasmodici e soprattutto come abbiamo potuto vedere offre una reale possibilità di salvezza. E questa era la classifica delle mie 5 trappole preferite della saga di Saw. Perché non mi scrivete la vostra nei commenti? Ah e se li avete scovati tutti vi consiglio di scrivere un commento con i 5 errori che ho nascosto in questo video. Vi ricordo che il primo che li azzecchera tutti vincerà un piccolo premio molto particolare. Il vincitore verrà avvisato nel prossimo video quindi vi consiglio di attivare la campanellina per essere prontamente avvisati ogni volta che pubblico qualsiasi cosa su questo canale. Magari sei proprio tu che stai pensando che non c'è bisogno di attivare la campanellina. Poi esce il video, te lo perdi e addio premio. Quindi fallo dai, attiva sta c***a di campanellina. E già che ci siete lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se non l'avete fatto male male male. Se invece volete questi fantastici sticker e il titolo ufficiale di Boccalone Recluta non vi resta che abbonarvi al canale. Chi lo sa, magari un domani arriverà anche un canale di comunicazione privato per gli abbonati, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per un nuovo ed entusiasmante video del Mangiamovie. E come sempre vi converrà a non mancare, altrimenti lunedì prossimo vi sveglierete con un piccolo regalino intrappolato attorno alla vostra testa. Ma perché tutte le volte si deve fare la scena post-credit? Tanto la maggior parte dei boccaloni neanche la guarda. Scommetto che se oggi non la faccio non se ne accorge nessuno. Sì, però come impiego il tempo? Ah certo, potrei andare ad affamare i gattini mannari. Allora, dite un po', vi è piaciuto il video di oggi? Sì, è un po' diverso dal solito format come sconfiggere? Vi piacerebbe vederne degli altri? Eh, allora li faremo. Basterà tirare ancora un po' la cinghia ai gattini mannari. E lo farò con molto piacere, sì. Oh, tranquilli, non c'è niente che non possano sopportare quelle bestiacce scansafatiche. Ok?